Scusami, dicevi? Come stai? Dicevo Andrea. Bene, bene, ti ringrazio. È un periodo che sto lavorando pochissimo per le questioni radicali che per qualche motivo si condensano tutte tra fine di luglio e il mese di agosto. Andrea, bisogna dire che l'associazione di cui sei segretario, l'associazione radicale di Napoli, Ernesto Rossi, ha raccolto un notevolissimo successo proprio in questi giorni, quindi siamo proprio sulla notizia, con l'approvazione in seno al Consiglio regionale della Campania della delibera che prevede l'anagrafe pubblica degli eletti. Ecco, raccontaci un pochino com'è andata, è una battaglia che è durata molto tempo, giusto? Sì, è stata una battaglia, intanto mi piace precisare che non si tratta di una delibera ma di una legge regionale. Ah, addirittura, scusa l'ignoranza. Perché altrimenti sarebbe almeno stato un grande successo, diciamo così, nel senso che in Italia i delibere poi si sono riusciti a ottenere un certo numero per l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati, che ha questo nome un po' ostico, soprattutto la giunta dei nominati, però va fatta perché poi in fondo è l'aspetto più interessante della legge stessa, quindi peraltro questa legge dovrà, malgrado le difficoltà che deve essere necessariamente diciamo resa esecutiva, non potrà avere quell'iter complicato, inattuato, come per esempio è il caso delle delibere comunali. Vai Emilio, sì sì ci siamo, vai vai. Niente, quindi diciamo che l'importanza fondamentale è questo, il contenuto della lagrafe di eletti per i radicali ovviamente è noto. Qui in campagna, io devo dire che la legge intanto ha avuto lì per lungo perché è stata diciamo, ha fatto tutto l'inter già nella scorsa legislazione, in realtà passò anche tutte le commissioni all'umanità, c'è nessuno che pubblicamente si è esposto in modo esplicitamente contrario, quindi passò tutte le tappe intermedie che le leggi regionali devono passare presso le commissioni specifiche e anche il finanziamento che poi una legge deve avere per essere attuata, quindi nella commissione bilancio. Di fatto però fu poi crascinata al voto finale fino alla chiusura della legislazione quando per obbligo di legge non si possono approvare regionali. Quindi l'abbiamo reincardinata subito nella nuova legislazione regionale che adesso è di destra con il Presidente Caldoro ed ha avuto anche qui un iter molto facile perché in fondo la destra una volta al potere non poteva esplicitamente rimangiarsi il voto dato quando era opposizione. Nel contempo probabilmente essendo opposizione la sinistra è stata più sollecita nell'accompagnare il voto di questa norma, cosa che non aveva fatto quando era lei a governare la regione Campania, diciamo così. C'è stato un dibattito poi anche un po' inaspettato in sede di voto finale del Consiglio regionale, ma devo dire che il Consigliere che ha portato avanti per noi in tutte e due le legislazioni questa proposta di legge, il Consigliere Nicola Caputo che è del PD e che ha avuto, grazie proprio al suo impegno, anche diciamo così, il suo impegno nella scorsa legislazione della Laga Fedelecchia, ha avuto la Commissione Trasparenza e adesso non mi ricordo con le altre deleghe di questa natura, si è ben difeso di fronte a quelli che sono stati gli attacchi all'ultimo momento il Consiglio regionale. Dicevo inaspettate perché i voti nelle commissioni che si sono dovute passare per avere un Consiglio regionale alla fine del voto in realtà erano sempre all'unanimità senza nessuna opposizione particolare, poi il Consiglio regionale dove noi eravamo presenti naturalmente al giorno del voto, il particolare Fulvio Martuscello sostenuto da un altro Consigliere Foglia, già si è imposto molto il problema sulla questione della pubblicazione del reddito, soprattutto quella dei redditi personali, diciamo così. Poi c'è stata una sospensione di qualche minuto in cui evidentemente la terza si è riunita, ha rivisitato questo tipo di argomentazione, sì, probabilmente facendo ragionare sulla base dei voti già espressi in precedenza, il Consigliere Martuscello, ma di fatto è stata una posizione anche in gelma, se vogliamo dire così, perché per un verso il Consigliere Caputo è arrivato al punto di minacciare il ritiro della proposta di legge se fosse stata snaturata in questo senso. Ma per un altro verso io penso che i consiglieri regionali, ma anche più in generale, diciamo, chi è coinvolto alla nuova normativa, quindi vari consulenti, delle partecipate, nominati nelle partecipate esterne, si sono tutti molto preoccupati per questa questione dei redditi, quando poi in fondo si dovrebbero preoccupare di più, io credo per quello che loro agire politico all'interno delle aule, perché di fatto quello che i cittadini più attenti e che sono quelli che poi utilizzeranno lo strumento di trasparenza che la legge offre, vogliono fondamentalmente sapere cosa votano il Consiglio regionale, quali sono le interrogazioni che fanno, quali sono le proposte di legge, le proposte di delibera che mettono in movimento i loro rappresentanti, le persone che hanno votato o che sono state nominate per conto loro. Andrea, quindi un presidio di legalità importante in una realtà complessiva che resta molto degradata, perché c'è stato il cambio di maggioranza regione, l'anno passato con la fine del dominio Bassolino, la nascita della giunta di centro-destra abitata da Caldoro, avete notato qualche differenza a livello epidermico in questo primo anno di governo oppure al momento non è? Allora sostanzialmente non si può indicare ancora l'operato, qui ha ereditato una situazione abbastanza, obiettivamente abbastanza degradata, soprattutto sul piano economico, la regione è stata disastrata, quindi ha fatto dei tagli che talvolta sono stati anche percepiti come un fatto positivo, perché di risparmio rispetto all'indubbia, come dire, esperterazione condotta precedentemente alla maggioranza degli assessorati e dal governatore stesso, però di fatto erano, vuol dire, sono state manovre in qualche modo imposte, necessarie, una valutazione del lavoro di Caldoro oggi ancora non si può fare, lui peraltro non era presente in aula al momento del voto della Nago Freire, che evidentemente non si è opposto, perché altrimenti la destra non avrebbe votato, poi alla fine questa proposta di legge è stata una limitata, tranne un assente mi sembra. Senti Andrea, questo terremoto che sta sconvolgendo il centro-destra a livello nazionale, i riverberi in campagna, c'è stata la vicenda Cosentino, tutto quello che si è portato dietro, c'è ancora quell'aria pesante? Sì ovviamente, no? Sì, naturalmente sì, ma devo dire che tra noi viene percepita come una faccenda interna all'oro del centro-destra, fondamentalmente, e credo peraltro che in qualche modo, diciamo la, come dire, questa lotta intestina che esiste nel centro-destra, in qualche modo ci abbia anche agevolato nell'approvazione dell'anagrafe pubblica degli eletti, perché indubbiamente esiste una parte del centro-destra che ha una difficoltà maggiore rispetto ad altri a presentare pubblicamente tutti i propri retroscena e non escludo che l'area, diciamo, più vicina a Caldoro, a Caldoro abbia voluto anche essere un po' provocatore approvando questa legge in questo momento, come dire, mandare comunque anche un messaggio, seppure molto per periferarsi, diciamo, a quella che è la sua area, diciamo, interna problematica, diciamo così, ovviamente proprio la questione che voleva simulare, diciamo, un caso Marrazzo intorno alla figura di Caldoro era, diciamo, una cosa che lasciava sgomenti, insomma, anche per la stupidità stessa del costrutto. Bassa cucina, diciamo. Sì, assolutamente, poi in una realtà come Napoli, la cosa che mi ha colpito di più di quella vicenda, che in tutta sincerità non ho approfondito particolarmente, ma naturalmente c'erano titoli grandi sui giornali, e quindi non si può fare almeno riconoscerla, era il fatto che fosse più grave, che chi immagina di poter colpire a Napoli una qualsiasi figura politica in questo modo, vuol dire che proprio non ha il posto di quella che è la tua città, di qual è l'atteggiamento che hanno i propri elettori, e questa cosa è molto grave perché naturalmente non riguarda esclusivamente questo episodio così un po' ridicolo, ma riguarda anche tutti i prevedimenti che vengono presi nelle questioni più serie che riguardano la città di Napoli e anche ovviamente la regione Campania, voglio dire che è questo criterio di ignoranza completa, diciamo, del tessuto antropologico e sociologico della città che vengono fatti, per esempio i piani regolatori, ecco la stessa ordine mentalità che vengono decise le zone di DTL o comunque i provvedimenti di carattere ambientale, ed è secondo me il motivo per cui falliscono ottimamente queste operazioni, cominciando a quello più eclatante e quello dell'immunizia. Eh sì, è un problema che negli ultimi mesi è un po' scomparso o finito sotto traccia nei grandi media nazionali, ma ovviamente tutt'altro è stato rimosso ovviamente, il problema rimane tale e quale, non solo che viene camuffato, no? Eh, come dire, hanno spostato l'orologio di questa bomba a tempo, no? Perché la politica così adesso in termini molto generici di Berlusconi all'epoca è stata quella di rinviare praticamente il problema aprendo nuove discariche. Noi come radicali Napoli e Ernesto Rossi insieme creduti ci siamo molto opposti alla politica fatta. Abbiamo peraltro partecipato in modo proponente all'epoca alla battaglia fatta su Piannuga, che è quella che parecita un po' così media, no? Sì, sì. e basilare per la città di Napoli, che poi era anche, diciamo, studiato a doppio fido con Aldo Rossi, quindi non era come dire una posizione estemporanea in questo senso, né una posizione da Grillini, capito, da Norloff. Sì, 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 una denuncia generica, diciamo, no? Ma era, diciamo, una posizione molto più chiara che sarebbe dovuta però necessariamente anche essere legata a un piano dello smaltimento dei rifiuti che avesse, intanto che fosse un piano, perché come poi ci ha confortato la rappresentante dell'Unione Europea che venne all'epoca, sembra che si chiamasse Pia Boscielli di Ducane, era una posizione legge, lei sosteneva come noi che fondamentalmente un piano non esisteva, cioè che quello proposto dal governo e dal comune non si può definire un piano, perché non ha le caratteristiche, no? un piano. E prevedeva sostanzialmente una riduzione dei rifiuti a monte e un sostegno particolare alle industrie locali, perché quello sì, avrebbe creato anche poi posti di lavoro, di una ricchezza locale, piuttosto che non di cederito, alle industrie di trasformazione che poca gente sa che nella provincia di Napoli sono, ma soprattutto erano, molto radicate. Noi avevamo, per esempio, l'Amo Plendi una volta, no? Chietti il grande distruttivo. L'Amo Plendi, e sono rimaste queste tracce di queste industrie naturalmente completamente degradate, depredate, che ormai si occupano di piccole, diciamo, forme imprenditoriali, che potevano essere, per esempio, una soluzione, no? Insomma, quindi un'eradicazione quasi totale di quella, no? Di quella struttura imprenditoriale che è un tempo, no? Esatto, sì, esatto, sì. Questo poi rientra in una logica di depredazione del mezzogiorno più anno. Sì, ovviamente, sì. Sarebbe potuta essere veramente, capito, invece un'occasione per il recupero, diciamo, il rilancio di queste industrie, per la mano d'opera, pensa, la questione Fiat in Campania, proprio, no? Le scende. Tutte, peraltro, faccende che sono uscite fuori dopo la nostra protesta a pianura, fatta, diciamo, con questa visione delle cose. Il senatore, naturalmente, un giorno a funzione, uno no, come si legge, diciamo, spesso, malgrado le censure sui perpiani, diciamo, no? E comunque non ha risolto nessun problema, perché la raccolta, e qui entra in gioco anche Bassolino, diciamo, nella sua amministrazione, fu fatta con dei criteri, diciamo, per essere semplici, non a norma, per cui tutta l'immondizia raccolta fino a, che devo dire, un anno fa, non può essere tal quale buttata dall'inceneritore. Quindi capisci bene che questa manovra, appunto, non è un piano, perché non chiude un cerchio di niente, non più, come dire, ha disastrato il nostro territorio. È un circolo vizioso, quindi. Senti, Andrea, passando da un disastro all'altro, tu sai, bene o male conosci la battaglia decennale di Pannella sulla speculazione abusiva dell'edilizia del Vesuvio, no? Se c'è la questione della bomba Vesuvio, che poi, recentemente, era stata rilanciata anche da alcune testate, da alcuni enti ufficiali, insomma. Si, si. Si parla, se c'è qualcuno, qualcuno ne parla, oppure... Ma in questo momento no, perché ovviamente il cambio di legislazione, diciamo, a destra, a sinistra della Regione, ha un po' fermato, come sempre succede, un po' tutte le azioni, e soprattutto quelle nostre, perché naturalmente poi con un cambio di legislazione, noi non avendo rappresentanti istituzionali dobbiamo ricostruire tutto un tessuto di gente più attenta, diciamo così, a questi problemi e rilanciare dissequamente, diciamo, queste che sono le battaglie anche storiche, se vuoi dei radicali, in particolare di Marco Pannella che a Napoli era chiamata rischio di subito. Ricordiamo che Marco Pannella è stato consigliere comunale a Napoli, no? Anni 90, se non vado a dire. Certo, infatti diciamo che poi noi fondamentalmente a distanza di 10 anni portiamo avanti il lavoro è iniziato da lui, diciamo così, chiaramente adeguandolo poi ai tempi, ai tempi, agli interlocutori, ma fondamentalmente il lavoro, diciamo, ha fatto dai radicali a Napoli è rimasto, vuol dire, ancora fondamentale, ancora utile, ancora da portare avanti. L'area del sud è fondamentalmente tal quale era, qualche norma che è stata fatta pure dalla regione Campania per tentare uno svuotamento, diciamo così, di quell'area, diciamo, la rimozione della popolazione, in realtà si è trasformata spesso anche in un boomerang, sempre io ne ricordo una che prevedeva la costruzione di tetti adeguati, come dire, ad agevolare lo smaltimento di eventuali eduzioni vulcaniche, no? Le polveri, eccetera. In realtà quella norma si è tradotta nella possibilità di aggiungere un mezzo piano, no? E quindi a un aumento delle volumetrie invece che è in una diminuzione. Ah, quindi paradossalmente è stato un'anti… Sì, sì, il piano di evacuazione è completamente inadeguato. Anche perché stiamo parlando, Andrea, di masse, cioè di una popolazione e qua siamo su diverse centinaia di migliaia di persone, vero? Oltre a mezzo milione, forse. Allora, nel desubio credo che sia ancora oggi la percentuale di abitanti, come dire, per chi è la più alta d'Europa, la densità abitativa più alta d'Europa, credo che sia ancora attualmente così. I piani sono quindi ovviamente, diciamo, completamente inadeguati e il fatto è riuscito in mezzo, diciamo così, credo uno o due anni fa, diciamo, si è riproposta la questione come Platan, perché c'è stato un importante servizio del National Geographic. Questo fu questo dei motivi. Allora, diciamo, quando poi si riesce a portare le questioni locali ad un livello diciamo nazionale, ma soprattutto internazionale, quanto meno europeo, allora quasi cominciamo a muoversi. Però la questione dell'area Vesuvio è veramente complessa, presume, è un'operazione colossale, diciamo così, perché presume anche poi la sistemazione delle persone che possono essere preventivamente, diciamo così, evacuate, non al momento che erutterà il Vesuvio. che, come dire, ha una tipologia istantanea, non esplosiva, piuttosto che… quindi alla fine poi l'intervento deve essere rapidissimo, sollecito e quindi è molto difficile da mettere in atto. Cos'è attuale, adesso dico un poco, diciamo, non da esperto, da ignorante, anche un po' economicamente, però da napoletano che vive più. Io credo che chiaramente la situazione attuale è attuale con la possibilità di preavviso che attualmente gli uccanologi possono dare, si potrà probabilmente salvare solo la popolazione, diciamo, di Napoli Est, di Napoli Centro, ma la situazione, diciamo, sotto il Vesuvio, il piede del Vesuvio sarà catastrofica, sarà come una Pompei, in un'altra parte praticamente. Sì, ovviamente speriamo vivamente che, insomma, ciò non abbia mai a verificarsi e che comunque quando si verifichi si sarà comunque in grado di affrontare adeguatamente questa emergenza, insomma, l'unico auspicio che possiamo… Per chi ci ascolta voglio sottolineare che noi radicali abbiamo delle proposte in questo senso, accumulate, come devo dire, con l'esperienza di anni, delle proposte fattibili, diciamo, non topie realizzabili, come dice Marco, sempre topie realizzabili, cioè veramente proposte fattibili per uno svuotamento e una ricollocazione di quell'aria in maniera tale da poter poi reggere un eventuale disastro agitale di quella portata. Senti, Andrea, io ho avuto l'opportunità di ascoltare l'anno passato, durante la campagna per le elezioni europee, la straordinaria figura di Aldo Loris Rossi che tu hai citato, tu sai che lui si fa portavoce nella proposta di rottamazione degli immobili, tu pensi che una proposta del genere, per esempio in una città come Napoli, possa appunto innescare quel mutamento di politica urbanistica che poi potrebbe anche essere la chiave di un vero rinascimento napoletano, come quello di Brassolino. E' di proposta economica, perché naturalmente metterebbe in moto una serie di imprese, una operazione importante, sicuramente per Napoli sarebbe la soluzione, anche perché Napoli è una grande città abbastanza popolosa, anche se negli ultimi anni la popolazione è un po' diminuita, perché molti giovani vanno via, ma chiusa dentro delle mura molto strette, i confini della città sono estremamente costringenti rispetto ad altre realtà come può essere Roma o Milano, prendendo l'esempio delle grandi mura. E questo è un po' il motivo per cui prima, a proposito dell'area di esu, dicevo che bisogna coinvolgere tutta una serie di altre operazioni da fare contestualmente. La rotta nazionale edilizia creerebbe, come devo dire, di nuovo la possibilità di spazi interni alla città, resta però il fatto che se per un 20% degli spazi possono essere recuperati in modo pulito all'interno della città, l'altro 80% della valutazione della possibilità di rotta nazionale edilizia a Napoli impone la ricollocazione poi degli edifici con i loro abitanti. Ed è per questo motivo che Napoli necessita veramente urgentemente della fondazione come area metropolitana di città metropolitana, di area metropolitana giuridicamente diciamo parlando. Perché questo peraltro è un problema come dire noto, lo diceva Nitti, quindi non è una cosa... Roba di un secolo fa più o meno. Nitti diceva la corona delle spine di Napoli riferendosi a tutti i paesi appunto che la obbligano dentro i confini stretti della città e che, diciamo, rendono impossibile una gestione se non dentro un'istituzione unica per tutti, quindi diciamo l'area metropolitana che permetterebbe di gestire tutta l'area e non solo una parte di quest'area, come dire, con maggiore coerenza, no? E' evidente che se devi spostare per esempio appunto dei cittadini da un'area ad un'altra permettendo peraltro una edificazione anche di maggiore qualità perché la rotta nazionale edilizia ha... siccome naturalmente non è facile definire l'estetica, diciamo, di un'architettura, no? Certo, certo. Se non posso farlo per legge, no? La rotta nazionale edilizia si definisce come rotta nazionale degli edifici post bellici e privi di qualità, intendendo tutti quelli che non sono adeguati alle normative attuali, prima di tutte quelle antisismiche. In questo modo tu puoi ritrovare una chiave per fare una distinzione, no? No. Noi abbiamo avuto in passato costruttori che hanno abbattuto palazzi storici, no? Sì, sì, sì. Allora evitare poi che eventualmente si riuscisse a provare una proposta di legge di questo genere e poi di asmazio invece che, diciamo, di costrutto positivo invece ad altre forme di speculazione. Cioè, quello purtroppo è stato uno scempio che si è consumato in molte città italiane già da lungo tempo, ricordiamo anche Roma, no? È stata fatta strage di palazzi storici il nome dell'ordine, della pulizia architettonica, insomma, alla fine poi le conseguenze sono state disastrose, no? Ti volevo chiedere, Andrea, vabbè, si fa un gran parlare sulle pronache, eccetera, a proposito del problema criminalità, soprattutto dei casalesi, quindi dell'area del Casertano, la situazione a Napoli, sotto questo punto di vista, la situazione è rimasta quella della guerra degli anni Ottanta, tra le varie correnti della Camorra oppure il problema rientrato magari è finito un attimino sotto il riflettore, com'è la situazione dell'ordine pubblico, la criminalità organizzata a Napoli, città, diciamo? L'ordine pubblico, io ti parlo da cittadino adesso comune, perché diciamo che non ho dati particolari se non quelli di essere, diciamo, un osservatore attento, e l'ordine pubblico sicuramente è un grosso problema, diciamo, la città da questo punto di vista è abbastanza disordinata, diciamo, talvolta anche un po' pericolosa, però questo fenomeno non è direttamente riconducibile in tutta onestà all'azione, diciamo, delle famiglie camorristi o comunque della camorra. Quindi una criminalità spontanea, tra virgolette, no? È, diciamo, una, come si dice in genere, microcriminalità. Microcriminalità, sì. Perché di fatto noi assistiamo ad un fenomeno di cui non parla nessuno, tantomeno nelle nostre istituzioni, noi sentiamo spesso dagli erbolini quando succede una sparatoria, oppure c'è un problema, non so, oppure un furto, la camorra, la camorra. Invece la questione si può fotografare in questo modo, la camorra di fatto entra sempre di più negli affari e nelle istituzioni e non governa più, soprattutto in città, in provincia, ma soprattutto nella città di Napoli, non governa più in modo così diretto, diciamo, ed efficiente la criminalità di strada, il piccolo spaccio, etc. E questo di fatto ha reso la città ancora più vulnerabile, perché in tutte le zone tradizionalmente, diciamo, di camorra, quelle più degradate, quelle più, come poteva essere una volta Forcella, Napoli, la camorra aveva un suo sistema di controllo del territorio per svolgere, un po' per una forma di potere, un po' per svolgere i propri affari, le forme di violenza gratuita, diciamo così, no? Cioè nel caso del cittadino percepisce con più disagio, ovviamente, erano fondamentalmente controllate appunto dal potere camorristico, soprattutto gestito per famiglie. Una volta questo fenomeno, diciamo, è andato disgregandosi anche lui nella disgregazione generale, diciamo, dell'economia della città, le istituzioni non sono state in grado di prenderne il posto, questa è la verità vera. Quando il debolino avvita, non so che c'è stato, un accortellamento per un motorino, non so in quale posto è la città, e grida la camorra, lo fa per distrare l'attenzione alle proprie incapacità. Quindi è una zona franca abbandonata sia dai clan che si occupano di altro che dallo Stato che è incapace, diciamo di, no? Eh sì, adesso poi si è aggiunta questa nuova, diciamo, forma di controllo del territorio imposta dal governo Berlusconi che è iniziata come fenomeno straordinario durante proprio le manifestazioni dell'immondizia, cioè quella di far accompagnare le forze di polizia dai militari, ma naturalmente non ha nessuna vera funzione sul territorio, perché i militari accompagnano, diciamo, quello stesso numero di forze di polizia che c'era prima, con le stesse, come dire, strumentazioni, con gli stessi mezzi e purtroppo, non malgrado, devo dire, anche con la stessa preparazione, ma di fatto non è che sono una forza aggiunta in senso propositivo, no? Sono delle figure che stanno lì e che finiscono, questo sempre, stiamo parlando della città di Napoli, esclusivamente, no? Per essere non una garanzia, diciamo, come dire, anti-criminalità sul territorio, ma una garanzia per il cittadino quando viene fermato dalla polizia, perché noi poi abbiamo obiettivamente un fenomeno di, più che di abusi direi di comportamenti estremamente scorretti da parte delle forze dell'ordine, questa è stata, cioè c'è proprio una consuetudine, no? A comportamenti, diciamo, che possono più o meno entrare nelle forme di abuso di potere, rispetto alle quali il militare che generalmente accompagna appunto il poliziotto finisce per essere solamente una garanzia appunto per il cittadino, perché il poliziotto eviterà dei comportamenti che altrimenti avrebbe sicuramente, ma al di là di questa funzione, come dire, sociologica, non c'è niente, non è cambiato niente, diciamo, il tuo bello, sicuramente. Senti Andrea, mentre ci avviamo alla chiusura del nostro collegamento, io ti porgo i complimenti di Rodolfo Viviani che si complimentava per questa ultima parte del tuo discorso e chiudiamo con una domanda di Americano che mi sembra che la risposta sia no, comunque lui mi chiede, la legge regionale, cioè quella che istituiva l'anagrafe degli eletti, non ha valenza per tutti gli organismi subordinati? Quindi mi sa di no, ma solo per il Consiglio regionale, vero? Sì, questo perché, come dire, una legge regionale di questo genere non ha un diretto obbligo, se tu intendi comuni, provincia, diciamo, questa forma di vincolo, proprio come fatto il Costitutivo, per la Costituzione stessa della regione Campania. Naturalmente noi ci siamo posti, ovviamente, questo punto interrogativo e, come dire, lavoreremo in futuro in questo senso e naturalmente sarà più facile ottenere delle cose quando chiaramente le è ottenute in sede centrale. Perfetto, Andrea, noi siamo arrivati alla fine della nostra conversazione, abbiamo un altro intervento che preme, quindi noi non possiamo che rimandarci ad un prossimo, spero, sollecito collegamento per aggiornarci sulla situazione napoletana, che ha quello che ho dato da vedere, è molto interessante, è sempre piena di sviluppi importanti, insomma. Quindi io ti passo la parola a Roberto. Ciao Andrea, scusa se mi sono assentato, ma ero molto stanco, quindi mi sono allontanato, sono andato a vedere. Sì, la mia incapacità tecnica, all'inizio ci ho messo un po' anche per il funzionamento, però invece volevo fare i complimenti per questa, diciamo, tipura di care che avete organizzato, ho messo in piedi, ho visto il sito, ho visto insomma che è fatta particolarmente bene, quindi spero che continuate questo lavoro anche per noi. Ecco, assolutamente dobbiamo continuare. Tu mi devi fare una cortesia, mi devi salutare tutti quanti i compagni dell'Associazione Radicali di Napoli Ernesto Rossi, li ho incontrati molti insieme a te, Alvi Pride Napoli, quindi fammi il favore di salutarvi e sicuramente presto ripeteremo questo appuntamento. Ti faccio un'ultima domanda, visto che ormai abbiamo il tempo, ti volevo chiedere, avete previsto per il giorno di ferragosto la visita in qualche carcere? Guarda, allora ti dico subito, mi togli proprio avanti con piacere, ti dico che domani noi iniziamo perché un po' chiaramente ci regoliamo sulle disponibilità di chi ci fa entrare, quindi dei consiglieri regionali, dei parlamentari. Quindi domani io sarò all'OPG di Aversa, che è ex manicomio criminale, e poi nel carcere di Santa Maria a Capovetere, che probabilmente, che ho già visitato l'anno scorso, è quello più disastrato, quello più brutto, non so come dire, anche dove sono i criminali più pericolosi in Campania. Invece sicuramente tra il 14 e il 15, quando in generale i radicali organizzano la giornata di accessi ai carceri, ci organizzeremo per visitare invece quelli della provincia di Napoli. Mi piacerebbe tornare in quello femminile, che è una realtà invece tra le tante diciamo veramente brutte, è una realtà invece un po' più organizzata, con una direttrice molto capace, insomma, e quindi speriamo che, come dire, trovare la situazione migliorata. E poi, non so, vediamo un po' se entreremo in quello di culturale o quello di secondo piano, vediamo un po' quelle disponibilità che riusciamo a avere da chi può farci aprire le porte del carcere. Bene Andrea, io ti saluto e a questo punto rinnoviamo l'appuntamento anche con te per il 15 agosto, giornata in cui TV Radicale sarà interamente dedicata alla questione carceraria, quindi magari se riusciamo a fare un collegamento anche allora, insomma, saremo contenti e felici. Ti salutiamo Andrea. Ciao Andrea, presto a risentirci. Ciao. Salutiamo Andrea Fuggere, segretario dell'Associazione Radicale di Napoli Ernesto Rossi e proviamo a vedere se riusciamo a collegarci nuovamente con...